Che bella la storia di Vergo, di questo giovane ragazzo che sogna in uno studio nascosto, segreto, dove canta le sue speranze prima di alzarsi all'alba per lavorare. No, è proprio una bella storia e comunque sono contento che questo ragazzo, uscito da X-Factor, non dovrà più fare una vita di merda e potrà dedicarsi alla musica, in cui comunque è già un professionista. Io comunque, come sapete, adoro il suo modo di modernizzare le melodie, soprattutto quelle appunto della musica italiana storica, questo è un brano storico, ne ho parlato molto bene ma stasera non mi ha convinto molto. Vabbè, ha steccato la melodia principale, ecco, questo cazzo mi è dispiaciuto tanto perché lui è un artista che sta sempre sul filo del rasoio, anche con questo stile pieno di autotune e questo suo modo di reinventare la musica è rischioso, a volte riesce, a volte no. Stasera per me non è stato impeccabile, forse troppa sperimentazione, forse, non lo so, perché comunque era un brano rischioso rifarlo come lo stava rifacendo e, non lo so, lui prende sempre le melodie e le fa sue e le rende veramente moderne. Stasera ci ha provato, ci è riuscito per quello che lui voleva fare, nonostante la stecca, però a me non mi è piaciuto particolarmente, diciamo, no? Cioè, se la volta scorsa ha combattiato, ci ha mostrato dei lati intimi, di sé meravigliosi e se quelle volte prima ancora ci ha mostrato delle melodie come quella della Pausini rifatta in una maniera pazzesca, stasera, eh, stasera, insomma, questa canzone ha un ritornello fantastico e non lo so, non me lo ha fatto nel suo stile come lo immaginavo, tutto qua. Lui è fortissimo, ha spaccato eccetera, però, ecco, arrivati a questo punto della gara bisogna dare sempre qualcosa in più e, secondo me, questa esibizione non è stata superiore alle precedenti e questo, purtroppo, è un rischio, è un problema, perché sei a rischio di eliminazione continuamente, il livello è alto, la competizione è serrata e non ti puoi permettere errori, quindi chi lo sa. Lui è fortissimo, come prodotto sarà lanciato bene anche fuori da X Factor, stasera, non lo so, si è preso qualche rischio, spero non esca, tutto qua.